Il decreto terremoto non piace ai sindaci terramani poiché non tiene conto anche dei danni del maltempo. I rappresentanti istituzionali di ben 19 comuni della provincia di Teramo questa mattina hanno partecipato all'incontro con l'onorevole Paolo Tancredi e il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, stilando tutta una serie di proposte da presentare all'attenzione del Governo e da portare lunedì pomeriggio sul tavolo dell'Assemblea dei Sindaci in provincia per chiedere la massima condivisione da parte di tutti i colleghi in vista anche di una manifestazione a Roma da mettere in campo entro il mese di febbraio. Nel corso dell'incontro al quale hanno partecipato sindaci o loro rappresentanti dei comuni di Albadriati, Cancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Campli, Canzano, Castelcastagna, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Corropoli, Sant'Egidio, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietra Camela e Teramo, gli amministratori hanno sottolineato l'inadeguatezza dei provvedimenti assunti fino ad oggi rispetto ai danni economici e sociali patiti dalla provincia di Teramo e stilato una serie di proposte a partire dall'allargamento del cratere sismico e dall'equiparazione della città di Teramo agli altri comuni del cratere anche in tema di sospensione delle tasse. Tra le altre richieste, l'inserimento del contributo di 10.000 euro per le case lesionate e non agibili come accaduto per l'Aquila, l'introduzione del concetto di calamità naturale integrata, sisma e neve, aggravato dall'interruzione della energia elettrica per eliminare il taglio di fondi alla provincia, cosa che libererebbe almeno 15-20 milioni per i primi interventi sulle strade provinciali e per apprestare agevolazioni urgenti, normative e finanziarie per i comuni, al fine di fronteggiare adeguatamente almeno l'emergenza, l'inserimento di ulteriori fondi per il mondo agricolo. I sindaci chiedono inoltre l'inserimento nel decreto di una norma che consenta alla regione Abruzzo e alle regioni terremotate di accendere un mutuo per la valutazione della vulnerabilità sismica e la rimodulazione del masterplan di almeno il 50% affinché la metà della dotazione finanziaria sia finalizzata a progetti di sostegno al tessuto economico e sociale colpito dal sisma e dalle calamità naturali, senza escludere la possibilità di una zona franca. Gli amministratori infine stigmatizzano la lentezza nella Costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e sollecitano il Presidente della Regione a provvedere con immediatezza per rimediare al tempo perduto.